Ciao amici di Undertraining e di Sei Forte Mamma, dovremmo essere già in diretta e oggi voglio cominciare così. che è l'allenamento in gravidanza nei primi tre mesi. Lasciamo un po' la musica di sottofondo perché questa è la canzone che io ho regalato al primo anno di vita del nostro piccolo Pietro. Oggi sorpresa. Ciao Ale, quanto tempo? Da stamattina. Da stamattina. Sì, allora oggi ho voluto partire un po' così, ho voluto partire con questa sorpresa perché penso che il momento della gravidanza e comunque poi il momento della gestione del proprio figlio sia una cosa veramente importante nella vita di una donna ma anche nella vita di un uomo, di un papà. quindi anche per me è fondamentale. Oggi di che cosa parliamo Ale? Ma riprendiamo un po' il discorso che abbiamo affrontato durante la precedenza diretta e abbiamo affrontato un po' quella che abbiamo chiarito un po' i dubbi che sono legati alla... sento malissimo Robin. Senti malissimo in che senso? Senso il mio... Non so che cosa posso dire. La mia voce. Eh Ale, non si può fare niente purtroppo perché siamo qui e quindi non possiamo farci nulla. Niente, stavo dicendo, abbiamo un po' affrontato i dubbi che hanno moltissime future mamme riguardo l'allenamento, l'esercizio fisico perché è forte la paura di allenarsi in gravidanza perché ciò potrebbe, come dire, compromettere la salute del bambino. In realtà abbiamo già chiarito che, diciamo poi che questa paura, scusate, questa paura è, diciamo, molto sentita soprattutto nel primo trimestre che è una fase comunque molto intensa dal punto di vista emotivo e psicologico anche perché, come dicevamo, più frequentemente si assiste a interruzioni precoci, spontanee della gravidanza. In realtà abbiamo già chiarito che non ci sono solide basi per confermare questo tipo di, come dire, correlazione e quindi la probabilità che comunque l'esercizio fisico, l'attività fisica in gravidanza possa provocare sofferenza al feto o possa incidere negativamente sugli esercizi della gravidanza sono molto molto bassi. Sono molti gli studi che, appunto, diciamo, concludono nel sostenere che, diciamo, non ci sono questo tipo di rischi, questo tipo di pericoli. Un recente studio del 2018 pubblicato sul British Journal Sport of Medicine, del 2018, sì, del 2018, praticamente conclude dicendo che l'attività fisica non è assolutamente correlata con aborti spontanei, con parti pretermine, con peso basso alla nascita del feto e così via. Quindi, diciamo, abbiamo già chiarito comunque queste preoccupazioni che molto spesso portano comunque la mamma a allontanarsi dall'esercizio fisico e dall'attività fisica. Ovviamente, comunque, abbiamo detto che l'attività fisica in gravidanza deve seguire delle regole ben precise, per cui abbiamo già escluso tutta una serie di esercizi che sono fortemente sconsigliati o, diciamo così, ritenuti potenzialmente pericolosi perché possono esporre la mamma a rischio di cadute, a rischio di traumi addominali, piuttosto che possono sottoporre la mamma a un eccessivo stress articolare. E poi abbiamo affrontato il concetto dell'intensità, no? E abbiamo dato comunque, abbiamo un po' chiarito, un po' quelli che sono i riferimenti, no? Di cui la mamma può tenere conto quando si allena e quando fa sport e fa esercizio fisico. Quindi, diciamo, questo è stato quello di cui abbiamo parlato l'altra volta. E adesso vorrei ancora un attimino affrontare un po' il concetto, quello appunto, dell'intensità, no? Abbiamo detto che le linee guida internazionali parlano di attività fisica moderata. In realtà, l'altra volta non ho avuto un modo di parlarne perché comunque i tempi sono molto ristretti, però in realtà sono molti gli studi che comunque sostengono che, diciamo, che anche allenamenti più intensi e più vigorosi possono essere ben tollerati dalla mamma e dal feto. Ma infatti, quello che volevo chiedere era un po' questo, tutto quello che c'è in letteratura non dà indicazioni sulla reale pericolosità di una mamma sana, di un feto, di un bambino sano, giusto? Esatto, esattamente. Anche, abbastanza recentemente, l'università, un'università australiana ha proprio, come si fa, fatto una revisione di tutti gli studi che, appunto, come dire, consideravano l'allenamento in gravidanza, rapportato comunque all'intensità. Comunque si è concluso che comunque anche un'attività fisica intensa non è comunque rischiosa per la mamma e non è associata ad esempio a peso inferiore alla nascita o comunque una diminuzione della crescita del bambino. Quindi, diciamo, anche a gravidanza inoltrata, tutto dipende comunque anche dal livello iniziale della gestante, dal livello di efficienza fisica iniziale, può sostenere comunque allenamenti, diciamo, intensi. Sicuramente un altro parametro di cui dobbiamo tenere conto è sicuramente la durata, perché comunque, diciamo che le riviste scientifiche hanno individuato comunque dei potenziali rischi, comunque anche, per esempio, nel caso di allenamenti che comportano un impegno muscolare eccessivo o allenamenti troppo portati nel tempo. Non so, penso a una seduta di allenamento ad alta intensità superiore ai 45 minuti. In questo caso, un rischio che viene citato è quello del rischio dell'ipoglicemia, no? E quindi una riduzione dell'apporto di glucosio al feto proprio per, diciamo, l'aumentata assunzione del glucosio stesso da parte dei muscoli. Un altro rischio, e su questo mi vorrei soffermare un pochettino di più, perché è più forte, è maggiore proprio nel primo trimestre, è il rischio di ipertermia. Magari molte mamme l'hanno sentito nominare. Quindi il rischio legato all'aumento della temperatura corporea interna della mamma, rispetto appunto, della temperatura corporea della mamma, rispetto alla... tale da superare la temperatura del feto, così comunque da limitare la, diciamo, la dispersione del, diciamo, del... Del calore. Sì, del calore del feto, insomma. E, come dicevo, i rischi legati a questa condizione e la soglia, diciamo, ritenuta, diciamo, rischiosa, corrisponde ai 39 gradi centigradi. I rischi sono, appunto, come dicevo, più frequenti, sono maggiori nel primo trimestre, perché in questi primi tre mesi di gestazione si verifica, in particolare nelle prime sei, otto settimane, si verifica, diciamo, quello che è lo sviluppo del sistema nervoso del feto, il quale, appunto, potrebbe essere, diciamo, compromesso proprio dagli elevati livelli di temperatura. Quindi sono molti gli studi, peraltro risalenti, che correlano, diciamo, l'ipertermia nel primo trimestre con, appunto, questi, come dire, difetti nello sviluppo del sistema nervoso. Quindi abbiamo detto che quelli che sono i due rischi maggiori sono l'ipertermia e l'ipoglicemia, giusto? Sì, sì, ecco, quindi è molto importante che la mamma, nel momento in cui intraprende l'attività fisica, sia in grado, appunto, di liberare il calore generato dal lavoro muscolare nell'ambiente proprio per mitigare l'aumento della temperatura interna, perché, comunque, la, diciamo, la temperatura del feto è strettamente correlata alla capacità di termorgolazione della mamma. Ecco, ho parlato di questo rischio, ma in realtà non deve allarmare le mamme a tal punto da allontanarsi, appunto, dall'attività fisica, perché nel momento in cui valutiamo le condizioni ambientali, le condizioni climatiche, consideriamo l'intensità, in maniera adeguata l'intensità, la durata, come dicevo prima, e anche le modalità di esercizio, diciamo, possiamo svolgere in assoluta serenità, con assoluta serenità l'attività fisica, senza incorrere nel rischio, diciamo, di arrivare alla soglia considerata pericolosa, anche perché c'è uno studio abbastanza recente del 2018 che, appunto, costituisce anche questo una revisione di tutti gli studi che hanno, appunto, diciamo, analizzato questo tema, no? Questa correlazione, appunto, tra ipertermia e attività fisica e diciamo che non si occupa, tra l'altro, solo di allenamento, ma proprio riguarda anche tutte quelle situazioni che le linee guida, proprio per evitare rischi legati all'ipertermia, sconsigliano alle mamme incinte, cioè quello di effettuare saune, bagni turchi, di fare bagni nelle vasche, idromassaggio. In realtà, diciamo, i margini sono molto, molto, molto ampi, nel senso prima che la donna possa comunque arrivare a una soglia di temperatura interna ritenuta pericolosa, quindi, come ho detto prima, è molto, molto importante prendere in considerazione quei parametri che ho citato prima, quindi considerare quelle che sono le condizioni climatiche, evitiamo di allenarci in ambienti troppo caldi, in ambienti troppo umidi, quindi potrebbe comunque essere utile garantirsi un'adeguata idratazione, vestirsi con abiti leggeri, quindi queste possono essere sicuramente delle prime indicazioni che possiamo dare alle mamme. Tipo, scusa Alessandra, tipo, se io vado in palestra, cioè se la mamma va in palestra e c'è l'aria condizionata che non funziona? Si ricorda di cose, no, io direi di tornare a casa. Perché in questi giorni comunque le temperature sono alte. Esatto, infatti, abbiamo voluto affrontare un po' anche questo argomento proprio perché adesso ci stiamo avvicinando, ormai siamo nel pieno dell'estate, comunque delle temperature elevate e quindi a volte ci preoccupiamo tanto di cosa posso fare, cosa non posso fare, questo esercizio può essere pericoloso, va bene, non va bene e poi magari è molto più importante considerare altri aspetti come sono le condizioni climatiche, quindi le temperature. io per esempio anche a me, nella mia esperienza della gravidanza, mi è capitato di entrare un giorno in palestra e di trovare una temperatura altissima perché comunque l'aria condizionata quel giorno non funzionava e ho preferito saggiamente di non allenarmi. comunque dicevo che anche in questo studio voglio dire i margini sono molto molto ampi, diciamo che questo studio ha concluso che una donna può allenarsi ad alta intensità nell'ambito di un allenamento aerobico per 35 minuti ad una temperatura di 25 gradi centigradi con un tasso di umidità relativa pari al 45% senza comunque arrivare alla soglia diciamo ritenuta pericolosa. Ok, quindi direi che questo è un primo passaggio importante, quindi se vado in palestra comunque posso allenarmi anche intensamente però ci deve essere una temperatura adeguata prima di tutto e poi devo tenere presente che se faccio un allenamento di lunga durata può esserci un rischio di ipoglicemia. Ma dopo quanto tempo posso avere il rischio di ipoglicemia? Ma io dopo i 45, 30 minuti. Cioè dopo 30 minuti comunque posso già avere un rischio di ipoglicemia se faccio… Questo progredendo con la gravidanza, nel senso che il rischio di ipoglicemia è maggiore sicuramente andando avanti con la gravidanza. Infatti anche le linee guida consigliano nel momento in cui indicano come attività consentite sia le attività aerobiche sia le attività muscolari sedute per quanto riguarda quelle aerobiche costituite da 30 minuti e per quanto riguarda gli esercizi diciamo di rinforzo muscolare tra i 20-25 minuti considerando che queste tipologie di allenamento prevedono comunque una fase di riscaldamento e una fase di defaticamento, comunque sono delle parti che non sono indispensabili. Per intenderci la donna nei primi tre mesi di gravidanza può andare a fare l'allenamento in palestra, 25 minuti di lavoro effettivo con i pesi, 30 minuti di lavoro effettivo cardio continuo, quindi questo può essere una buona linea guida. Si può arrivare anche a 40 minuti, io sto parlando comunque in linea generale. Sicuramente per le donne sedentarie che non si erano mai allenate bisognerà andare in progressione e magari prima di arrivare a 30 minuti si partirà da 15 minuti, per poi magari arrivare a 40 minuti invece magari con una donna già allenata si possono già dilatare i tempi della parte centrale dell'allenamento. Sì, poi ecco una cosa che può essere importante, ad esempio abbiamo esempi di sportive, abbiamo parlato della Williams, abbiamo parlato anche di runner che comunque hanno continuato la loro attività durante la gravidanza. Sì, hanno comunque portato a termine i loro allenamenti, ovviamente hanno comunque fatto delle, sono intervenuti comunque con delle modifiche per quanto riguarda sicuramente l'intensità. Ecco un'altra cosa con la quale hanno avuto a che fare è quella della gestione dell'alimentazione in queste situazioni, perché il rischio di ipoglicemia può venire soprattutto perché magari la mamma fa più fatica a mangiare in questi periodi, magari ha più nausea quindi mangia un po' di meno, piuttosto che inizia l'attività fisica con un livello magari di zuccheri già basso all'interno dell'organismo. Ecco, se tramite una corretta integrazione, quindi può pratica attività sportiva, questo rischio si riduce di molto, perché se durante l'attività sportiva comunque integro con il quantitativo adeguato di carboidrati, con il quantitativo adeguato di liquidi che servono appunto per mantenere idratato anche il feto e sali minerali e tutto quello che serve durante un allenamento, ecco questo, sicuramente in questo modo il rischio si abbassa drasticamente. Sì sì, sicuramente. Ok, anche per quanto riguarda l'ipertermia mi viene in mente ad esempio una delle cose che hai detto, logico, non fare l'allenamento magari sotto il sole, anche se è un allenamento blando, direi che magari quest'anno al mare non fare l'acqua gym sotto il sole, anche se si è con le gambe appoggiate in acqua, perché magari non è la cosa ottimale, ma ad esempio fare attività nelle ore un po' più fresche, quindi al mattino, alla sera, senza nessun problema e comunque utilizzando dei materiali tecnici che possono aiutare a eliminare più velocemente il sudore. Sì. Questo perché se metto una maglietta ad esempio di cotone che rimane bagnata durante l'attività fisica, sì, mi dà sollievo perché sento un po' più di fresco, però mi impedisce di andare a fare evaporare il sudore, quindi può aumentare la temperatura e quindi il rischio di ipertermia. Ok. Ecco, una domanda invece che sicuramente tutte le mamme si fanno in questo primo trimestre, ma appunto pesi li possiamo fare e poi gli addominali si possono fare sì o no durante questo periodo? Allora, per quanto riguarda i pesi, sì, si possono fare, in realtà se faccio riferimento a quello che solitamente faccio con le mie allieve, durante il primo trimestre non faccio utilizzare i pesi, a meno che io li ho utilizzati, però comunque diciamo il mio trascorso diciamo non me l'ha consentito, ovviamente ho operato con una riduzione dei pesi stessi, ho evitato comunque di arrivare all'esaurimento muscolare, per cui ho utilizzato dei pesi comunque adeguati alla situazione per intenderci. Ho utilizzato dei pesi che mi consentivano di eseguire un tot numero di ripetizioni, ma mi sono fermata insomma prima, ok? Quindi per intenderci, per come basarsi per utilizzare i pesi. Cioè per esempio se con quel peso prima riuscivi a fare 10 ripetizioni, in questo caso quante ripetizioni sei andata a fare più o meno? 8 ripetizioni. Ok, quindi è ridotto comunque, non sei arrivata al limite diciamo dell'esercizio. No, esattamente, esattamente. Sicuramente ho anche come dire ridotti i tempi di recupero nel momento in cui si lavora con serie ripetizioni, un intervento che si può fare è sicuramente quello di ridurre i tempi tra, diciamo, tra le serie. Però come dicevo, tendenzialmente... Scusa, scusa Alessandra, ridurre i tempi tra le serie durante la gravidanza? Cioè do meno tempo di recupero? O comunque do... Scusa, aumento, perdonami. Do un po' più tempo di recupero? Ok, perfetto. Aumento, quindi... Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Quindi io avendo, diciamo, in questo caso un po' più difficoltà a recuperare perché comunque anche la respirazione, l'affanno può essere aumentato, io do più tempo di recupero comunque utilizzando dei carichi importanti perché sono l'80% del mio 100% sul 10 ripetizioni massimali in questo caso, però riesco a permettere all'organismo di recuperare e andare ad eseguire nuovamente la stessa prestazione senza problemi. Esatto. Però come ti dicevo, se vogliamo dare magari anche dei consigli alle mamme, io tendenzialmente con le mie allieve non faccio usare i pesi nel primo trimestre di gravidanza, ma faccio eseguire esercizi a corpo libero per rinforzare i muscoli della schiena e per rinforzare i muscoli dell'addome. Questo appunto per far fronte, cominciare a far fronte a quelli che poi sono i cambiamenti posturali, i cambiamenti morfologici della gravidanza. Quindi per rispondere alla domanda se si possono fare gli addominali, nei, nel senso che dipende da cosa si fa. Allora, io personalmente gli esercizi per l'addome come i classici crunch non li faccio fare in gravidanza o perlomeno li ritengo che siano forse ancora accettabili da eseguire nel primo trimestre. Perché comunque il fatto di allenare l'addome deve essere finalizzato comunque ad aiutare sicuramente a stabilizzare il bacino e a prevenire una futura problematica che è abbastanza diffusa tra le donne che è il problema della diastasi o diastasi addominale. Quindi sicuramente esercizi come il crunch addominale possono andare a peggiorare una situazione perché la diastasi addominale, scusate non l'ho spiegato, è questo progressivo distanziamento dei retti addominali, no? Che sono tenuti insieme dalla linea alba e che è una modifica che comunque è fisiologica in gravidanza che è dovuta ai cambiamenti ormonali, quindi all'intervento della relaxina, del progestoreone che quindi rilassa l'addome, ma è anche dovuto al progressivo accrescimento dell'utero. Questa situazione nella maggior parte dei casi rientra alla normalità, in altri casi no. Quindi in gravidanza comunque è importante anche da questo punto di vista scegliere gli esercizi più adatti ed eseguirli nella maniera più corretta proprio per non andare a peggiorare una situazione che potrebbe in futuro manifestarsi. Sono molti, diciamo, lo studio più recente del 2018 sostiene che comunque le donne che si allenano in gravidanza e che eseguono esercizi di rinforzo del core, ok, hanno più probabilità di non sviluppare di astase di addominale o comunque di recuperare più facilmente da questo punto di vista. Quindi diciamo che utilizzare esercizi per gli addominali molto bene perché può aiutare con le dovute cautele e soprattutto in alcuni momenti quando… Sì, sì, no, perché comunque il rinforzo dell'addome è importantissimo perché è comunque una parte fondamentale per stabilizzare la zona lombare e stabilizzare la zona pelvica. Quindi in gravidanza, a mio parere, devono essere fatti. Appunto, diciamo, la cosa importante è scegliere gli esercizi più adeguati, quindi esercizi che allenano il core, intendendosi per core, quell'insieme appunto di esercizi che aiutano a stabilizzare il tronco, muscoli del pavimento pelvico, muscoli della schiena, il muscolo trasverso possono in questo senso essere più utili. Sicuramente rispetto a dei crunch e le varie varianti, le varie sue varianti che a volte possono essere, diciamo, controproducenti. Io, diciamo, lascerei un po' comunque andare questo cambiamento fisiologico del distanziamento dei retti, insomma. Ok, allora, io direi, per fare un riepilogo di tutto quello che abbiamo detto oggi, a cosa dobbiamo fare attenzione? Le donne devono fare attenzione nei primi tre mesi di gravidanza a ipoglicemia, comunque può essere, come battuta, fare un'alimentazione corretta e inserendo, magari durante l'allenamento, anche quantitativo riguardo i carboidrati, quindi questo può essere un aiuto. Quindi controllare un pochettino anche il parametro della durata, quindi non soltanto dell'intensità, ma anche della durata delle sedute di allenamento. Quindi, veduta un po' più breve a livello di tempi di lavoro, vero e proprio, con comunque l'attenzione appunto a questo che abbiamo detto dell'alimentazione. Terza cosa vale per l'ipertermia, quindi attenzione a non aumentare troppo il calore, per questo idratarsi correttamente, indossare degli indumenti adeguati che eliminano velocemente il sudore, quindi permettono di ridurre il calore corporeo velocemente e magari fare allenamento in situazioni dove o c'è l'aria condizionata oppure c'è una temperatura un po' più bassa, quindi al mattino o verso sera. Poi abbiamo detto pesi sì, quindi assolutamente si può lavorare con i pesi, valutando le situazioni, non abbiate paura di lavorare con i pesi, anzi, vi può aiutare a recuperare molto velocemente prima senza avere effetti negativi sul bambino e addominali ni, nel senso alcuni tipi di addominali li possiamo fare, altri è meglio magari stare un po' più attenti e soprattutto valutare caso per caso. Sì, direi di sì. Ecco, per questo motivo se volete avere qualche altra informazione potete scriverci a info.ch la undertraining, adesso ve lo scrivo qua sotto, punto ch, se vi lo ritrovate, lo vedete qua, ecco qua, qua sotto, info.ch, potete chiedere informazioni ad Alessandra su come allenarsi appunto in gravidanza, potete chiedere tranquillamente una consulenza gratuita con lei e intanto che aspettiamo delle domande, ringrazio Alessandra. Grazie a te. Per questo intervento e voglio fare una cosa, condividere una cosa con voi. Ho paura. Non riesco a farla. Vediamo un po'. Si sente? No. Si vede solo il video. Ahah. Inizione. Non c'è confine che ti possa dare un limite che ci dica di dividere la pelle, le anime, tu che scorri dentro me come sangue, vita in chiostro, cambi tutto in un secondo, rendi il mondo solo nostro. E dalla mea rinasco e salgo su mentre nasci tu. e la marea mi ha portato fino al faro, fino al mio porto sicuro, dove io riprendo fiato col tuo primo respiro. e come insegni tu, dal fondo del mare, non ti sento. E la superficie che devi puntare nascù, se so respirare. Io vi ringrazio per averci seguito anche oggi, poi se volete vedere e ascoltare tutta la canzone per Pietro la potete trovare anche sui social, se no ce la chiedete ve la faccio volentieri ascoltare. Intanto grazie mille a tutte le mamme che ci hanno seguito oggi e mi raccomando se avete qualche domanda scriveteci senza nessun problema infochiocciola undertraining.ch e Alessandra risponderà senza nessun problema a tutte le vostre richieste. Un abbraccio a tutti e mi raccomando sempre in forma. Ciao mamme! Ciao mamme!